ricordi paolo quella storia che ti avevo promesso che ti avrei raccontato è un'altra storia strana non è proprio come quella della medusa sai però è una storia importante ma che quasi nessuno conosce quando è nato gesù bambino duemila e più anni fa è nato in una grotta e per pericoloso sai per una mamma essere da sola e fare un bambino in una grotta al freddo al gelo allora giuseppe che era il papà è andato in giro in circa di due donne che potessero aiutarla due levatrici due donne che facessero nascere il bambino e allora giuseppe è uscito e ha chiamato zelomi poi questa zelomi è uscita e ha detto a una sua amica che ha trovato per la strada salome ho trovato oggi una donna che ha partorito ed è rimasta vergine è rimasta intatta è rimasta come prima lei ha detto non ci crederò mai non esiste quando nasce un bambino la madre non è più vergine ha detto vieni e vedrai la salome è entrata e ha voluto vedere ha voluto toccare le sue mani gli si sono irrigidite sono diventate invalide come ammalate non poteva più muoverle pensa e allora disperata e avendo anche capito che aveva sbagliato ha chiesto alla madonna come posso fare adesso che non ho più le mani per lavorare e la madonna gli ha detto guarda se tu tocchi il bambetto che è appena nato Gesù vedrai che guarirai lei lo tocca e guarisce e la donna poi è tornata sana questa storiella è una storiella talmente rara e talmente strana che ci vuole proprio un matto come me per trovarla però alcuni lo sapevano già pensa che ho trovato solamente 17 immagini in tutta la storia di 2009 anni fa vuol dire che in tutti questi anni i pittori che hanno sempre fatto questo quadro si sono dimenticati di questa storiella perché era una storiella che conoscevano solo in pochi perché non veniva dal solito Vangelo veniva da un altro quello di San Giacomo io ho spulciato o sono andato in giro ho guardato musei libri e viaggi e altro e ho messo insieme per la prima volta queste figurine una vedi e questa vedi questa è una delle prime e si vede vedi l'allevatrice che è qui la donna vedi che non credeva e visto guarda la mano com'è vedi che tiene una mano che sorregge l'altra perché significa che è ammalata questa l'avevano già trovata sai l'avevano già detto che era lei questa qui che non l'aveva mai vista nessuno sai neanche i veneziani sai che sono i grandi studiosi a Venezia le università e tutti quanti a San Marco non ti dico patriarca e tutti i suoi amici nel ciborio di San Marco guarda c'è Giuseppe qua lo vedi l'asino e il bue la Madonna il bimbietto lo vedi come quello che tieni in mano tu e questa donna vedi che fa vedere le mani che è guarita questa è lei quella che prima non ci credeva dopo è guarita e poi ci ha creduto questa non l'aveva vista nessuno sai ma una delle più famose che non aveva mai visto nessuno Paolo è quella di Giotto guarda che grande che ti ho fatto la figurina per Giotto ti piace così grande qual è la Madonna perfetto qual è Gesù bambino e qual è la levatrice in credula pensa che tu che l'hai indovinata ha indovinato una cosa che nemmeno la Chiara Frugoni che è una che fruga dappertutto una storica del medioevo bravissima che ha scritto libri libri su Giotto ha capito che questa qui che io e te abbiamo capito subito si tratta del miracolo della levatrice in credula e che sia lei io non ho proprio dubbi perché non hanno mai guardato cosa sta facendo la Madonna bene in questo momento non stanno ponendo il bambino nella mangiatoia anzi la Madonna lo sta sollevando dalla mangiatoia guarda si vede anche la mano dietro della Madonna per farglielo toccare a Salome perché lei guarisca dunque è il primo miracolo che fa Gesù prima delle nozze di Cana che si è sempre detto che fosse il primo ma siccome questa storiella viene da un altro Vangelo non è mai stata presa in considerazione e pensa e questo è uno di quali più famosi del mondo che io e te abbiamo capito subito di cosa si tratta ce ne sono poi degli altri uno dei più conosciuti perché era anche veneziano è Lorenzo Lotto che in questo quadretto che sta a Siena vedi quella donna che tiene le mani là che sembrano delle cosci di pollo quella vedi è di nuovo lei che sta implorando la Madonna per guarire l'ultimo e quello più curioso è questo che è quello di Rubens del famoso quadro che sta a fermo del grande pittore fiammingo che lavorava a Roma in quegli anni siamo nel 1606 ed è l'ultima volta che questa storiella viene raccontata o storia potremmo ormai dire in un dipinto importante è un dipinto che va in un altare alto più di tre metri ed è tutto dipinto con il gusto e il colore dell'epoca barocca per rendere una storia che nessuno fino a oggi pensa nemmeno scarbi sai quello che parla sempre in televisione non importa si vive lo stesso lui ha curato questa mostra e hanno speso anche dei soldi sai per farla ma nessuno si è chiesto che cosa succedeva là dentro là dentro succede la storia che ti ho già detto questa che vedi qui è la levatrice incredula che infatti guarda la Madonna e non sta guardando il bambino cosa che si dovrebbe fare quando si va a trovare un bambino che è appena nato tutti si devono guardare il bambino invece loro vedi che guardano tutti in giro il pastore guarda dito alle spalle guarda un altro pastore e poi ti dirò perché e la vecchia vedi guarda la Madonna il perché è quello di prima lei guarda la Madonna per ringraziarla di essere guarita infatti mostra le mani per aver toccato il bambino dunque è l'antica storiella che ho raccontato tramite il miracolo lei ha la fede senza troppo ragionare alla fede ed è finito invece il pastore che si fa troppe domande e chiede vedi con la mano chiede ma è proprio quello lì il figlio di Dio e lo chiede alla persona più anziana che sta qua in piedi lui invece arriva alla fede e arriva a capire che è il bambino è il figlio di Dio solamente dopo che gliel'hanno spiegato perché perché questa era una chiesa tenuta da dei fatti da dei padri filippini che avevano il compito di educare i giovani alla fede dunque alla fede si arriva anche tramite l'educazione e tramite la cultura questa è l'ultima volta che nella pittura cristiana ovviamente questa storiella appare poi scompare grazie a tutti